A Morano Calabro, il 5 giugno 1994, nel Museo dell'Arte Contadina voluta e realizzato dal professore Menieri, il quale ora farà una breve presentazione. Allora, poi ti faccio una bellissima descrizione degli oggetti. Sì, bene. Non so, se ti avvicini puoi riprendere il primo oggetto, il primo piano è un carto manuale, nel senso che veniva usato per cartare la lana manualmente, nel senso che il cartatore, fra l'altro ce n'erano molti sia a Morano che a Morano, si metteva calancioni su questo panchetto e con gli scardassi, questi si chiamano appunto scardassi, vedi questi figli, queste punte d'acciaio, in cui si cartava la lana, poi si passava subito dopo alla filatura. La filatura veniva naturalmente con il fuso, quindi vedi questi sono degli esemplari di fuso. naturalmente in alcuni paesi, non a Morano, non solo a Morano, però in alcuni paesi, in paesi albanesi, il fuso era associato alla colocchia, cioè la cosiddetta rocca o colocchia che era questa qui. Questi sono due pelle esemplari di colocchie che provengono da paesi al parisi, l'uno da San Basile e l'altro da Filippo. E come funzionava questo? Nel senso che questo la filatrice se la metteva, la posava qui alla vita e la teneva con una mano, con la mano sinistra, e metteva la massa di lama da filare qui, poi con l'altra mano, cioè con la destra, azionava il fuso. Chiaro? Sì. Tutte le immagini tradizionali vedono in teatro con la donna che fa questo lavoro, cioè colocchie e fuso, fuso e colocchie. Poi si passava, poi si passava diciamo proprio alla tessitura. La tessitura ovviamente avveniva con i telai manuali e questi sono due esemplari di telai manuali che costano di diversi organi. Ci sono, questo era, ecco, le navette sono lì, una navetta è lì. Quindi la navetta, nella navetta c'era una spola, poi gli altri fili venivano tesi, venivano tesi da un subio all'altro, quello lì si chiama subio, quel cilindro in fondo. Dov'è il pado rosso? Sì, quello è il subio dell'ordito. Questo invece è il subio del tessuto, nel senso che, come puoi immaginare, il tessuto costa di una trama e di un ordito che si intrecciano. Per cui l'ordito è costituito dai fili che vanno in lungo, longitudinalmente. Mentre trasversalmente c'è la trama. Quindi azionando i pedali e i licci, questi sono i licci, si ottengono diverse armature. Per cui, non so, si può ottenere, si può ottenere questa armatura qui. Vedi? Tieni presente che questi sono tutti i tessuti prodotti a morano, nel passato. Risalgono 800, primi 900. Quindi questo è fatto con l'anagrezza, si chiama frannina. La frannina, credo anche a morano. Frannina vuol dire fiandina da fiandra. Sì. Deriva da fiandra. Ecco, la frannina è un tessuto di lana ruvido. Per le coperche. Con le coperche, ma anche i vestiti. Questo qui. Quindi questo è un tipo, per esempio, è un tipo di tessuto che si ottiene azionando in un certo modo i licci con il pedale. Mentre quest'altro tessuto si ottiene in un altro modo. Ma sempre tieni presente che tutti questi tessuti venivano prodotti con le telai di questo tipo. Perché ci sono altri esemplari di tessuti antichi che sono laggiù in fondo. E ora lo andiamo a vedere. Sì. Dunque, questi che vedi sono due esemplari di costumi maschi e femminili. Quello è di tutti i giorni, cioè feriale. E costa come vedi di una gonna che è fatta proprio con lana grezza locale. Quindi è in rosso. Qui c'è il grembiule. Però è più interessante naturalmente l'abito di gara che è in rosso. Ecco, vedi, questo è in rosso. È in rosso e dispone di grembiuli di vario tipo. Anche molto ben lavorati. Vedi come vede venivano curati i grembiuli. Teni presente che i grembiuli erano di vario tipo. Cioè, le grembiule erano associate alle calamamiche. E i grembiuli erano stessuti? Eh sì, sono fili dorati. Fili dorati. Che venivano realizzati qui a Morano. Il tessuto non è locale perché è rasso. Il rasso naturalmente non si poteva produrre qui. Vedi? Però la confezione del costume avveniva a Morano. C'erano delle donne che confezionavano costumi, che ripresenta che ci sono motivi figurativi, iconografici che si trovano anche per esempio nelle chiese, quindi questo calice tipico dell'iconografia religiosa che si ritrova. Poi è interessante notare che c'erano diversi crempiuli, oltre che diverse cose, donne, in relazione alle diverse circostanze. Questo qui è un abito proprio di gala, quindi da sposa. Mentre qui, se tu riprendi questo, c'è l'abito nero da lutto e poi c'è ancora il crempiuli, il crempiuli viola, che le donne, mi pare, che venivano usate da venire. Mi sembra, non sono sicurista. Grazie. 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 Grazie.